Grazie a tutti No Potete ricordare che improvvisate come attraversare la strada Ok? Se arriva una macchina Non passate Perché se c'è il simaforo verde uno può passare Altrimenti non si passa Quello che dovete ricordare che improvvisate come attraversare la strada Ok? Se arriva una macchina Non passate Perché se c'è il simaforo verde uno può passare Altrimenti non si passa Quindi ricordatevi le strisce E non pensate di poter saltare da una striscia all'altra La striscia è fatta così perché serve così Se è una zebra è fatta a strisce Mi insegnate che è la stessa cosa Giusto? E allora cosa mi venite a dire?